Sapevate che prendere appunti in maniera totalmente disorganizzata, appunti disordinati e poco chiari, non vi servirà assolutamente a niente? Bene, oggi sono qui perché voglio condividere con voi ben 5 metodi su come prendere bene appunti. Uno dei metodi su come studiare bene e più velocemente è sicuramente quello di prendere degli appunti ben organizzati in classe. Prendere bene appunti in classe è una cosa assolutamente essenziale, soprattutto perché prendere dei buoni appunti, fatti bene, organizzati e come si deve, aumenterà le vostre capacità di apprendimento, sicuramente vi aiuterà a ricordare i concetti in maniera molto più approfondita e vi consentirà anche di comprendere meglio quell'argomento. In poche parole, prendere degli appunti a regola d'arte vi eviterà tutto quello stress che si accumula alla fine del periodo di studio quando dovete dare l'esame o dovete fare l'interrogazione. Prima però di condividere i miei 5 metodi infallibili su come prendere appunti, io vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube cliccando sul pulsante iscriviti che c'è qui sotto, in maniera tale da non perdere tutti i prossimi contenuti perché sono sicura vi saranno super utili e soprattutto vi consiglio di andarmi a seguire anche su Instagram mi trovate come morgana.aurioso anche perché su Instagram condivido tantissimi consigli e spunti per quanto riguarda la scuola, l'organizzazione, l'università, eccetera, eccetera quindi se non mi seguire su Instagram vi perderete questi importantissimi consigli. Ma adesso scopriamo quali sono questi 5 metodi per prendere appunti. Metodo numero 1, metodo Cornell Vi ho già parlato in maniera molto approfondita del metodo Cornell in un video che vi lascio nelle schede qui sopra perché era il metodo che io utilizzavo all'università per prendere appunti lo trovo un metodo super efficace e soprattutto molto veloce e semplice da imparare questo metodo si rivela molto molto utile perché vi consente di suddividere i vostri argomenti in brevi riassunti che sono a loro volta divisi argomento per argomento quindi anche andare a ricercare un'informazione all'interno degli appunti in questo modo sarà veramente super semplice In cosa consiste? Il metodo Cornell consiste nel suddividere il vostro foglio in tre parti una colonna a sinistra un po' più sottile rispetto a tutte le altre una colonna a destra abbastanza capiente e poi infine una sezione orizzontale sotto Come si utilizza? Dovete utilizzare la colonna a destra, quindi quella più grande, per scrivere il corpo degli appunti quindi quando siete a lezione e durante la lezione tutto ciò che dovete scrivere perché appunto la vostra insegnante sta condividendo con voi il vostro sapere dovrà andare appunto in questa colonna sulla destra Nella colonna a sinistra invece andranno inserite tutte quelle informazioni che vanno a completare ciò che è scritto nella colonna a destra quindi per esempio se state studiando la, non lo so, la rivoluzione francese all'interno della colonna a sinistra andrete ad inserire tutti i libri che parlano della rivoluzione francese che dovete consultare per il vostro studio dovete andare ad inserire i siti web che eventualmente la vostra professoressa, il vostro professore condivide con voi magari potete andare ad inserire il numero delle pagine da studiare riferite a quell'argomento e quindi tutte le informazioni che vanno a completare la parte destra dei vostri appunti la parte orizzontale sotto invece è un qualcosa di veramente molto molto utile praticamente vi servirà soprattutto quando andrete a fare la ripetizione dell'argomento quindi prima di andare all'interrogazione o prima di andare all'esame praticamente all'interno della sezione orizzontale dovrete andare a fare un breve riassunto di tutto ciò che c'è scritto nella pagina sopra magari in questa sezione oltre appunto al riassunto potete inserire tutte le informazioni più importanti e concetti che dovete assolutamente ricordare in questo modo dando una veloce occhiata appunto alla parte finale dei vostri appunti saprete in quella pagina che cosa c'è scritto e quindi anche consultarla diventerà super facile quali sono i vantaggi? gli appunti sono super organizzati, le informazioni facilmente reperibili e soprattutto questo metodo ti facilita un sacco la ripetizione il secondo metodo invece è il metodo mapping il metodo mapping non è altro che un modo più visivo di organizzare tutti gli appunti che voi prendete in classe questo metodo vi sarà veramente molto utile soprattutto quando cominciate a prendere familiarità con un argomento quindi quando cominciate a capire un po' di più di che cosa si sta parlando in cosa consiste? con questo metodo la vostra pagina all'interno della quale prendete gli appunti sarà organizzata argomento per argomento quindi ogni pagina sarà dedicata ad un argomento diverso l'argomento principale si troverà al centro della pagina sotto il quale poi andranno a ramificarsi tutti i sottoargomenti quindi tutti quegli argomenti che vanno a completare l'argomento principale corredati dagli esempi, dai fatti principali e tutte le informazioni che vanno ad arricchire l'argomento principale tutto questo sotto forma di una mappa mentale come si utilizza? mentre sei in classe ad ascoltare la lezione non devi fare altro che inserire al centro del tuo foglio l'argomento principale dopodiché devi ramificare l'argomento principale in svariati sottoargomenti a seconda di cosa state studiando e per ogni sottoargomento inserire un titolo in maniera tale da trovare più facilmente le informazioni sotto ad ogni argomento secondario dovete andare ad inserire tutti quelli che sono gli esempi fatti principali legati a quell'argomento note del professore e tutto quello che vi aiuterà a completare i vostri appunti a questo punto non vi resterà altro che continuare lo schema fino a quando gli argomenti della lezione non saranno esauriti quali sono i vantaggi? è un metodo utilissimo per tutti gli studenti visivi ovvero quelli che prediligono appunto lo studio visivo quindi quando ci sono delle figure, quando ci sono degli schemi, quando ci sono delle mappe perché hanno un po' di difficoltà ad affrontare lo studio di enormi blocchi di testo altro vantaggio è quello che ti aiuta a ricordare bene gli argomenti perché andrete a ricordare bene le relazioni che ci sono fra gli argomenti quindi come si lega un argomento all'altro il metodo outlining il metodo outlining utilizza intestazioni ed elenchi puntati per soddividere tutti gli argomenti della lezione si tratta di un metodo che è veramente molto utile soprattutto quando si devono affrontare quegli argomenti che hanno veramente un sacco di informazioni quindi magari degli argomenti più scientifici come biologia, fisica, matematica, cose di questo tipo perché contengono veramente tantissime informazioni, formule, regole e tutte cose così in cosa consiste? ogni foglio dei vostri appunti sarà così composto praticamente avrete al centro l'argomento principale subito sotto avrete il sotto argomento magari corredato da tutti esempi e dettagli relativi al sotto argomento poi nel momento in cui si cambierà l'argomento principale non vi basterà altro che inserire il secondo argomento principale e continuare così fino alla fine del foglio come si utilizza? durante la lezione scrivi sul foglio l'argomento principale posiziona poi il primo argomento secondario subito sotto magari spostato un po' più verso destra in maniera tale da non confondervi con l'argomento principale e sotto l'argomento secondario non vi resterà altro che attraverso un sistema in elenco puntato quindi con dei semplici punti aggiungere dettagli all'argomento secondario e poi non vi resterà altro che continuare così fino alla fine della lezione quali sono i vantaggi? consente di organizzare i vostri appunti in maniera veramente super ordinata? grazie a questo metodo vi sarà facilissimo individuare le varie relazioni che ci sono fra l'argomento principale i sotto argomenti e i vari esempi soprattutto se utilizzate un codice colori se non sapete che cos'è un codice colori ho fatto un video la settimana scorsa sull'argomento su come avere un codice colori personalizzato mentre si studia che vi lascio sulle schede qui sopra il metodo charting charting significa fare grafici, fare carte e praticamente il metodo charting non è altro che un metodo che vi aiuta a separare le varie informazioni sui vari argomenti principali attraverso l'utilizzo di colonne questo metodo è molto adatto per tutte quelle materie che contengono tantissime informazioni come per esempio la storia dove ci sono diverse vicende che vanno a completare un determinato avvenimento storico in cosa consiste? la pagina è divisa in diverse colonne a seconda di quanti sono gli argomenti trattati durante la lezione e ogni colonna ha un suo argomento principale per ogni argomento principale poi sotto nella stessa colonna nelle righe sotto andranno aggiunti tutti quegli esempi e dettagli che vanno a completare l'argomento come si utilizza? dividere il foglio in una o più colonne a seconda di quanti sono gli argomenti trattati a lezione e scrivere il titolo di ogni argomento su ogni colonna quando il professore o la professoressa durante la lezione aggiungono delle informazioni ad uno di questi 3, 4, 5 argomenti principali che avete inserito all'interno del foglio non dovete fare altro che inserire queste informazioni nella riga corretta e quindi nella colonna dell'argomento corretta quali sono i vantaggi? i fatti sono super organizzati e facilissimi da esaminare grazie a questo metodo potrete evidenziare i fatti chiave per ogni argomento il metodo sentence sentence significa frase e di questo metodo, come è facile capire dal suo nome praticamente vi consente di inserire le informazioni all'interno del vostro foglio per gli appunti attraverso l'utilizzo di frasi e praticamente questo metodo si può adattare a quelle lezioni che sono molto veloci e ricche di informazioni quindi quando non riuscite a stare troppo dietro all'insegnante perché le informazioni si accavallano l'una sull'altra e non sapete più da che parte stare, che pesci prendere in cosa consiste? ogni riga della pagina sarà un argomento a parte, un argomento a sé stante e per renderlo più performante magari potete scegliere di inserire l'argomento principale in cima al foglio in maniera tale da trovare tutte le frasi relative a quell'argomento immediatamente sotto però se preferite non inserire l'argomento principale vi basterà semplicemente andare a registrare quelle che sono le frasi chiave che la vostra insegnante dirà durante la lezione come si utilizza? vi basterà scrivere le informazioni chiave che la vostra insegnante condividerà con voi durante la lezione sotto forma di frase o un elenco puntato dopodiché non dovrete fare altro che aggiungere una nuova frase per ogni dettaglio nuovo questo metodo per frasi vi consentirà di capire quali sono le cose importanti e quali sono le cose meno importanti relative a quell'argomento quali sono i vantaggi? questo metodo vi consentirà di coprire tantissimi dettagli e informazioni in maniera super rapida i due appunti risulteranno semplificati e utilissimi per la ripetizione bene ragazzi spero tantissimo che questo video vi sia utile mi raccomando fatemelo sapere lasciandomi un commento qui sotto e soprattutto fatemi sapere quale di questi metodi volete provare nelle prossime lezioni per scoprire come va io vi mando un bacione fortissimo noi ci vediamo mercoledì prossimo alle 14 con un nuovo video ciao